Signore e signori, benvenuti nel magico mondo del circo, con il Golden Circus Festival! Ah, io sono pronta, prontissima. Tu, Daniele, sei pronto? Oh, bionda, regina del circo, cosa sei di elegante? D'accordo, grazie, ma tu sei pronto o no? Sono prontissimo, quando tu vuoi, cominciate. Scusa, così? Non ti metti qualcosa di più fiestoso, allegro, d'attacco al circo? No, ma no, io resto così, dai, la gente mi conosce come persona schiva, sobria, un blaserino blu, che buono! D'accordo, tu sei sempre l'uomo più elegante che io conosca, però per l'ingresso, l'entrata in pista, hai pensato a qualcosa di eclatante, di piassoso, di bello? L'anno scorso ho spettato a cavallo di un elefante! Se ci penso ancora mi fa male, vabbè, comunque, io direi di fare un'entrata del tutto normale. Tu mi presenti, io entro, cominciamo in un modo semplice, tradizionale. Se sta bene a te, ti presento io allora. Grazie, come sempre sei una deliziosa padrona di casa, o bionda, regina del circo. Va bene, pronti ragazzi, cominciamo! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a te, è da ridere, ho sbagliato forte di ingresso, tu sei uno dei nostri, sei uno del circo, Daniele. Io ti ringrazio, ma io sono soprattutto come storico del circo, perché dopo due o tre anni, a forza di stratti muscolari, di russazioni, di sperle prese dai clown, mi faccio un po' di storia del circo. Te l'avevo detto anche all'inizio. Possiamo cominciare? Certo, iniziamo. No, ecco no, solo prima una cosa, volevo avvertire il pubblico presente qui al Golden Circus, che anche questo pubblico sarà coinvolto in giochi, che vi proporremo a nome di Replay, il gioco del Corriere della Sera. Quindi, attenzione a certi giochini, perché se non vincerete i 5 miliardi della Lotteria Italia Estrazione il 5 gennaio, dal 6 gennaio, con Replay, ci sarà un'infinità di altri premi. Il gioco che vi rimette in gioco. Quindi, attenzione, allora come dice la regola, la frase tipica del mondo del circo, andiamo a incominciare! Il gioco che vi rimette in gioco. Il pizarro e i loro scipenze. Le scimmie, divertenti, simpatiche, intelligenti, furono i primi animali esotici ad entrare nel circo ai suoi inizi. Per questo le abbiamo scelte per aprire la nostra carrellata nella storia del circo attraverso i suoi numeri. E divennero, per la verità, anche famosissime. Ci fu uno scimpanse che, in frac e scarpe di vernice, cenò niente meno che col presidente degli Stati Uniti e con altri regnanti europei dell'epoca. Si chiamava Consul. Bravo! Ma come lo sai? Ma io te l'ho detto che sono qui come storico del circo. Eh, scusa, ma adesso guardiamoci bizzarro. Poi del mio ruolo parliamo dopo. 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 A voi, Ercole. A voi, Ercole. Poi del mio ruolo parliamo dopo. Anzi, Liana, io credo che siano stati proprio loro le prime attrazioni all'inizio dello spettacolo circense. E' così? Ma certo, Daniele. E lo sai perché? No, ecco, questo non lo so. Scusa. Sì, ma scusa. Tu prova a montare e smontare ogni giorno un circo dell'Ottocento senza argani elettrici, trattori e capirei subito che senza gli uomini forzuti il circo non avrebbe potuto proprio funzionare. Allora si può dire che erano una specie di bulldoze rumano. Infatti. Guarda questo Ercole e che cosa è capace di fare. Quello è un pezzo di ferro di un centimetro Di spessore? Sì, certo, un centimetro di spessore Ha un pezzo a chiamare qualcuno del pubblico, ci dice nessuno Il successo del numero è proprio questo Che il pubblico può provare con le proprie mani la verità Grazie Come bevi, Daniele? Il pubblico fa vedere al pubblico questa stessa tavola con un chiodo Ora vedrai cosa ti combina questo Ercole Grazie 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 Grazie